I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Siracusa, coadivati dai militari della tenenza di Floridia, su delega di direzione distrettuale antimafia del Tribunale di Catania, hanno dato esecuzione delle ultime due ordinanze di custodia cautelare emesse dal Tribunale di Catania nell'operazione San Paolo, nei confronti di due soggetti inizialmente dichiarati irreperibili in quanto domiciliati al di fuori del territorio nazionale. Nella mattinata di domenica i carabinieri hanno tratto in arresto per spazio di sostanze stupefacenti i due siracusani AR, incensurata di classe 79, e Massimiliano Rossitto, classe 73, con precedenti di polizia attualmente domiciliati a Malta. I due arrestati chiudono il cerchio intorno all'associazione di tipo mafioso riconducibile allo storico clan Aparo e capeggiata da Massimo Calafiore e Giuseppe Calafiore, organizzazione già colpita il 27 luglio scorso da 24 misure di custodia cautelare all'interno dell'operazione denominata San Paolo. La polizia di Stato ha arrestato un uomo per violenza sessuale. Si tratta di un 33enne e accusato di violenza sessuale, revenge, porna e danni dell'ex convivente. L'uomo ha filmato l'atto di violenza e lo ha inviato tramite mail all'attuale fidanzato e altri conoscenti della vittima che hanno avvertito subito la polizia. A seguito dell'attività investigativa, l'uomo è stato denunciato per il reato di detenzione ai fini dello spazio di sostanza stupefacente perché è trovato in possesso di 80 grammi di hashish e 190 grammi di marijuana. La perquisizione ha permesso di rinvenire anche una pistola al giocattolo priva del tappo rosso, quattro cartucce e due paia di manette simili a quelle di dotazione alla forza dell'ordine. L'uomo è stato arrestato e portato al carcere di Cavadonna. Il Covid-19 si è portato via anche a uno degli esponenti maggiori di Siracusa che per 13 volte è stato candidato al Nobel per la pace. Aveva 84 anni Bruno Ficili, ex presidente dell'Istituto Internazionale per la Pace e per i diritti umani, che aveva la propria sede e propria a Siracusa. Era stato ricoverato dopo la sintomatologia all'ospedale maggiore di Modica. Ficili avrebbe contratto il Covid-19 durante una visita ospedaliera a Catania. Soffriva già di una patologia polmonare. L'annuncio è stato dato dal primo cittadino di Scicli, sua città originaria. Intanto arriva una nuova ordinanza ministeriale, obbligo delle mascherine nei luoghi al chiuso per tutta Italia. Esenti sia bambini al di sotto dei sei anni, sia soggetti con forme di disabilità. Il metro di sicurezza e le mascherine dovranno essere applicate in tutti i luoghi al chiuso, accessibili al pubblico, inchiusi i mezzi di trasporto e tutte le occasioni in cui non è possibile appunto mantenere la distanza di sicurezza. Giovedì 5 alle 9.30 presso la Capitaneria di Porto di Siracusa verrà presentata la sesta edizione dell'iniziativa al fine di implementare il progetto di realizzazione di un'ospitalità ancora più accessibile e ecosostenibile in sicurezza dell'intero territorio siciliano. Il progetto Sicilia e Siracusa Mare per Tutti. L'evento si aprirà con i saluti del Sindaco e con la partecipazione delle varie istituzioni presenti. Il progetto Sicilia e Siracusa Mare per Tutti ha l'obiettivo di promuovere un turismo accessibile ed un'accoglienza di qualità attraverso il superamento di quegli ostacoli che impediscono di godere appieno dell'esperienza turistica e di tutta la bellezza del territorio siciliano. Di concerto con i rappresentanti delle categorie cui detto progetto è destinato, ENS, Unione Ciechi e Ipovedenti, MAC, Associazione di persone con disabilità e con l'aiuto di tecnici, professionisti, persone con esigenze specifiche si è provveduto a raccogliere informazioni. Le fonti sono state l'Aismi di Siracusa, la Capitaneria di Porto, l'Aria Marina Protetta e le varie amministrazioni comunali sul litorale, sulle strutture balneari di Siracusa e del resto della Sicilia al fine di selezionare quelle che garantiscono maggiore accessibilità. in quanto muniti di percorsi dedicati alle varie esigenze specifiche, inserendo relativi dati nel presente documento riepilogativo. Tanti i partner in collaborazione. Per tutto il mese di agosto cambiano gli orari di apertura e chiusura del cimitero di Siracusa. I nuovi orari prevedono l'apertura dall'unedì al sabato dalle ore 7.30 alla chiusura alle ore 13.30, la domenica l'apertura dalle ore 7.30 alla chiusura alle 12.30. Il giovedì 15 agosto il cimitero resterà chiuso per l'intera giornata. L'accesso con mezzo proprio agli utenti autorizzati è consentito il martedì e il giovedì dalle ore 9 alle ore 12. Il 6 febbraio, in una fredda e gelita giornata invernale, veniva abbattuta la pericolante, alta e predominante palma di piazza Umberto I Floridia. Il commissario straordinario del comune, Giovanni Cocco, aveva posto fine alle diatribe su mantenere o eliminare, per motivi di sicurezza, uno dei simboli floridiani. In una calda giornata estiva, l'amministrazione comunale, l'ultimo giorno di luglio, ha mantenuto fede alle sue promesse e ha colmato il vuoto d'angolo della centralissima piazza, riposizionando un esemplare di palma. Ne ripercorriamo storie e significato con il semiologo Salvo Sequenzia. Beh, in effetti bisogna dire che quando gli amministratori, agli inizi del Novecento del secolo scorso, concepirono l'assetto urbanistico della piazza, così come la vediamo oggi in particolare, pensarono subito, in linea con lo spirito dei tempi, era il periodo dell'Ostile Liberty, della nascita dell'Ostile Liberty, di piantare le palme. Quattro palme all'estremità di piazza Umberto I, per inaugurare il nuovo secolo all'insegna di una pianta che è stata da sempre, nella tradizione del Mediterraneo, simbolo di speranza, di vittoria e di rinnovamento. E in effetti questo segno poi è stato di buon auspicio, assecondando la storia della nostra comunità, che si è sempre contraddistingua per la sua sagacia, per la sua intraprendenza anche nel mondo culturale, artigianale e commerciale del tempo. Oggi il nuovo segno, la nuova palma piantumata qualche giorno fa, ripete nelle stanze della comunità che si raccoglie attorno a questo simbolo un auspicio di prosperità, in effetti realizzata anche in rapporto ai tempi nefasti che abbiamo vissuto recentemente per la pandemia. È anche un segno di connubio tra la necessità di avere questo significato legato al significante, ma anche di dar seguito a quella che era una necessità di sicurezza pubblica, perché la palma precedente ormai aveva più che un problema. Sì, la nuova palma è vero che viene a colmare un vuoto, ma che non è soltanto un vuoto esornativo, decorativo, all'interno dell'assetto urbanistico cittadino, del centro storico, salotto della città, ma soprattutto viene a colmare un vuoto di senso. Le comunità oggi hanno bisogno di riappropriarsi di segni storici, di segni importanti attorno ai quali si è svolta la vita normale, quotidiana dei cittadini. La palma storica ha visto nascere amori, ha visto importanti momenti della storia collettiva di questo territorio. Auspichiamo che la nuova riesca anche a tramutare tutti i desideri e le istanze di questa nostra città in auspici da realizzare effettivamente. Debutta con la pesce la leggenda sull'isola, emozioni, applausi e rivive la fortezza spagnola sull'isola di Capopassero. Successo di pubblico nelle prime due giornate per la performance teatrale immersiva. Abbiamo realizzato un sogno, ma ad emozionarci ancora di più sono stati gli occhi commossi del pubblico. Sono le parole di Gisella Calì, regista e autrice di Colapesce, la leggenda sull'isola, la performance di tipo immersivo, musicale e teatrale, che ha debuttato sabato nella fortezza spagnola dell'isola di Capopassero a Portopalo. Prima del debutto si svolta una conferenza di presentazione. Sottolineato è il valore della riscoperta delle tradizioni popolari, del racconto delle delusioni, delle speranze, della povertà di molti della Sicilia di fine ottocento. Una storia che ha fatto riaprire al pubblico fortezza spagnola, inaugurata nel 2009 e poi richiusa per anni. L'incantevole fortezza che troneggia sull'isola di Capopassero è stata ripristinata e resa fruibile all'associazione Fiat Lux 2.0, che ha prodotto l'evento facendo diventare l'eccezionale palcoscenico in cui si sono esibiti gli attori di Colapesce.